Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Askilt e siamo tornati oggi sul mio canale in questo nuovissimo video Un video di Clash of Clans, prima di tutto ve lo dico subito, sono Nabbo, aiutatemi per favore Ho recuperato un vecchio villaggio, ero molto piccolo quando lo utilizzavo, cioè un bel po' di anni fa E non sapendo come si giocava ho potenziato subito il municipio al 10 avendo ancora le mura al 6 Per favore dovete aiutarmi a supportare la serie, faccio schifo quindi vedrete anche un mio miglioramento spero Se non noterete nessun miglioramento vuol dire che comunque faccio ancora schifo Vabbè, l'ho riaperto da pochissimo e spero che questa serie vi possa piacere, mi è stato consigliato da un mio amico, non so Ovviamente dall'ultima volta che l'ho aperto hanno aggiunto veramente molte cose Prima di tutto i giochi del clan che iniziano tra un giorno e 20 ore Degli sconti qua che non so bene a cosa servono Degli artefatti ho visto nel castello del clan Ovviamente c'è anche il secondo villaggio Però boh, non so, devo anche imparare Prima di tutto direi di provare a fare qualche attacchino qua nel secondo villaggio Per guadagnare un po' e vedere se questo, questa disposizione più che altro va bene Allora proviamo un po', io lo so che si possono cambiare Sembra potrebbero andare già bene così Ecco c'era una bomba bella, dovevo provare a metterne uno Ne metto solo un gigante che prende tutto E spaccamuri Eh si spaccamuri che non sono spaccamuri Bombaroli lì, sono abituato Allora, speriamo in bene Perché non sono molto No poveri, bombaroli No Moriranno male tutti perché è veramente da tantissimo che non gioco Non sono ancora Non mi sono ancora riabituato Allora, i giganti non farò mai neanche una stella sicuro L'unica speranza è che l'altro faccia meno di me Però non è possibile Uno spettatore vuol dire che è già finito O mi ha devastato in due secondi oppure ha fatto schifo Però mi avrà devastato sicuramente Vai torniamo indietro Eh 43, vabbè, non è Meno 24, che schifo Vabbè, replay, vediamo un po' Cioè magari vediamo un modo in cui possiamo difenderci meglio Ok, ha posizionato i barbari lì e sono saltati via Ok, che non è il massimo perché c'è solo una trappola a scatto Una trappola che fa saltare via i barbari Quindi non è il massimo Sto solo aiutando ad entrare Dovrei riuscire a coprirli, sarebbe meglio Potrei metterci una bella bomba lì Invece che mettere solo le trappole a scatto Giustamente Questa qua la metto a terra Così siamo un po' più difesi Vai, proviamo subito a fare un altro attacco Vai, vai Eh, devo provarci Eh, questo qua Urca Questo qua ha già la macchina lì Quell'eroe, diciamo Ecco, lì dentro ci sarà un sacco di robe sicuro Proviamo a metterci Un arciere Ok, niente di che Vai, tutti lì che attaccano Vai, distruggete, distruggete, distruggete il mortaio Per favore Per favore, grandi, 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 grandi Sarà un casino perché se scoppia una bomba lì Dove c'è tutta quella gente Muoiono malissimo Però no, 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 no C'è il coso che fa un sacco di danno ai giganti Quello che fa d'aria Questo qua lo spacca tutto Ok, ok, una stella Va benissimo, una stella Ottimo, ottimo Faccio un... I giganti stanno morendo malissimo Però mi hanno... Mi hanno già aiutato fin troppo Cioè già, una stella subito buono Non era fatto troppo bene questo villaggio Per fortuna Dai, dai, dai Distruggete tutto Due stelle Lo so che sto facendo schifo in realtà Però va bene così, va bene Eh, va bene, va bene Non hanno più difese Se faccio in tempo devasto tutto Buonissimo Comunque nei commenti scrivetemi Se questa serie vi può interessare Se volete... Che la prosegua Io ho provato Se non va bene la smetto Poi... Ah, c'è ancora questo cannone Non l'avevo visto Mi sa che non facciamo tre stelle Muore il gigante No, no, no Sì, no C'è sto bombarolo qua Che non credo riesca a distruggerla C'è neanche uno lì Manca un minuto e tretto secondi Non lo so Speriamo in bene Vai, vai Ti prego, ti prego Vai, vai No Vabbè, terminiamo Fa niente Quello lì non farà niente 84 C'è da sperare che abbia fatto di meno l'avversario Dai Vittoria Sì No, non lo va l'altro Crash of Clans Bene, buono Tutto giù Tutto giù Tutto a caso E ci provo poi Non lo so Procura E furia E guaritori E questo No, no, no Metti davanti Metti davanti gli altri Se no mi distrugge i guaritori Subito Quello che mi ha dato Domatore Eh, terremoto Dove ci sono le Le difese aeree Lo so che non è servita molto Però va bene Ok Ora il Re Barbaro Lo userò Quando avrà poca vita Che la fa anche recuperare Allora, vai Eh, 30% Possiamo farcela Mh, cura Anche se mi sa che è un po' sprecata Ma va bene Meglio che niente Ecco qua C'è già il Le difese aeree Che colpiscono Quindi magari può essere I guaritori Si stanno già guarendo da soli Buono I giganti Dovrei cominciare a destrarli anch'io Sinceramente Cioè Senza usarli Da quelli che mi donano Sarebbe meglio Eh, qua Ci sono le difese aeree Che le stanno distruggendo Ottimo E Gli stregoni Lì ce n'è un'altra Di difesa aerea Uh, vai vai Furia, furia Da Re Barbaro Una stella Ottimo Ottimo Va benissimo Re Barbaro per fortuna L'ho salvato in tempo Non venire ho accorto Maledizione Va bene così però Eh, ha evocato anche altri barbari Uh, dai 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 Possiamo fare un bel attacco Un bel attacco Tutti i pecca sono ancora lì Molto Forti ancora Quindi Siamo messi abbastanza bene Io faccio la gelo Perché Ho No, no C'è l'altra Non l'ho beccata Non l'ho beccata L'altra maledizione Credevo di averla presa Ok, no Sono morti i guaritori Vabbè fai niente Ci sono ancora poche difese Quindi Ok Non mi sembra di essere andato troppo male Eh Ditemi voi poi nei commenti Dove stanno andando i pecca Perché non hanno beccato il L'estrattore Non lo so Non chiedetemelo Ditemi se sono andato abbastanza bene A me sembra di sì Perché Mh Abbiamo fatto un bel attacco Dopo tanto che non facevo attacchi Proprio tantissimo Cioè Non è che mi ho detto Mi sono ricominciato Sì Ho ricominciato Ho tolto tutti Tutte le cose per terra Tutti i cespuli Gli alberi Ho Ho cominciato a potenziare qualcosa Con quello che mi rimaneva Infatti come vedete Avrò tipo Quasi 900 gemme Eh Dopo tutte le cose che ho raccolto da terra E dalla miniera delle gemme Nel secondo villaggio Comunque A me sembra Di essere andato abbastanza bene Qua devastiamo tutto Eh 100% Mh No Manca ancora qua Ah sì 25 secondi No fatecela Dovete farcela Voglio fare il 100 20 secondi Vai ci sono gli arcieri Che lo fanno No no Non distruggete il muro Ma va 16 16 16 16 Vai vai andate 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 10 Dai per favore Sì dai ce la fanno Perfetto 100% Il primo attacco Dopo anni Che non ne facevo uno Un bel po' di bottino Anche se non è il massimo Sono contento Mh Ah Ma basta Non lo voglio votare Anche il bonus Stella Che lascerò nel Non so Consigliatemi se lasciarlo Cosa c'è qua Cos'è sta roba Sono Ah oro 3 Vabbè ci credo Ok ok Qua le truppe Le richiedo subito E nei commenti Ovviamente Scrivetemi Dei consigli Molti molti consigli Ovviamente Della tesoreria Qua Le cose le tengo nel castello Oppure le trasferisco subito Le gemme Le utilizzo per poi farmi Una quarta capanna Del costruttore Che dovrebbe essere Qua No dov'è che è la capanna Risorse giusto Farmi una quarta capanna Del costruttore Quando arrivo a mille Oppure utilizzarle In altro modo Poi ovviamente Tra tutte le cose Consigliatemi Cosa potenziare Io credo le mura Che ce le ho al 6 E fa proprio schifo Avere le mura al 6 Con un municipio Al 10 Grazie per la visione Commentate Condividete Lasciate un bel mi piace E datemi un bel po' Di consigli Mi servono Grazie Ciao a tutti Come avete visto dal video Mi servono Molti Molti Consigli Per migliorarmi Voglio Portare Molte Modifiche Al mio Villaggio E a tutto Spero Che questo Video vi sia piaciuto Veramente Mi servono Numerosi consigli Ve l'ho già detto Un sacco di volte Ma spero che questa serie Vada bene Per anche poter Portare qualche altro Videogioco sul canale E non solo i soliti Yu-Gi-Oh! Ve lo porterò presto Per lo speciale 500 iscritti Magari farò una live Probabilmente Nel periodo di Pasqua Quando siete a casa Potete vedervela Con calma Grazie per la visione Ciao a tutti